Diciamo che questo periodo per Chieti non è proprio la strada giusta. Infatti, come vedete alle mie spalle, si è riaperta la voragine nella centralissima via Asigno Aereo, come vedete dalle immagini di Diego Martelli. Sindaco, nuova voragine che si è aperta, anzi maledetta voragine che si è aperta in via Asigno Aereo. A cosa è dovuto stavolta? È sempre dovuto allo stesso problema. Via Aereo è interessata nel sottosuolo da una serie di passaggi di cunicoli che ovviamente rendono l'area un po' instabile. Questa voragine, che è sempre la stessa, ha bisogno di essere sistemata in via definitiva. Per far in modo che non ci sia un intervento spot, ma invece sia un intervento definitivo, abbiamo chiesto alla Regione un finanziamento che ci sarà, da quel che mi risulta accordato oggi, per poter fare una indagine proprio sul sottosuolo e quindi scegliere l'intervento di carattere ingegneristico più idoneo perché ci sia la messa in sicurezza della strada e soprattutto di quel tratto di strada. Quanto all'immediato, cioè in attesa di questi lavori, ovviamente dovremo fare una serie di interventi sulla viabilità. Questa mattina c'è stato un incontro in comune tra gli altri con il comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni ed ecco alcune informazioni utili. Da oggi, 2 maggio fino a lunedì, senso unico dalla colonnetta verso San Giustino per i mezzi sia privati che pubblici. Da lunedì prossimo, invece, sarà attuato il senso unico alternato esclusivamente per gli autobus della panoramica, regolamentato da un semaforo, mentre la strada via Signo Aereo sarà completamente interdetta ai mezzi privati per cui saranno trovate soluzioni alternative fino alla messa in sicurezza della zona. Intanto i teatini questa mattina si sono svegliati con questa nuova sorpresa. Non lo so, qui i lavori forse dovrebbero essere fatti più a regola d'arte, io ritengo. Eppure là, il filobus in patto non passa più, perché si era aperta la porra, eppure là? Ho saputo. Più che altro ha visto. Sì, l'ho visto. Ma che possiamo fare? Non possiamo fare niente, o no? Beh, almeno di evitarla sì, però. Beh, sicuramente. C'è però chi la prende con filosofia. Punto e a capo. Ci ritroviamo sotto a chiedi scalo. Entro oggi prenderemo le decisioni, dice il sindaco di premio, necessarie per garantire l'incolumità pubblica, ben consapevoli che in questo momento, più che mai fino alla riattivazione della scala mobile che contiamo di fare entro pochi giorni, dobbiamo garantire il passaggio dei mezzi pubblici su via aereo. Passerà il Giro d'Italia? Cosa succederà? Succederà? Succederà che passerà, succederà che vincerà il più veloce e magari con l'asfalto nuovo di via aereo sarà anche agevolato. Anche perché in Italia, quando passa il Giro d'Italia, si rifà l'asfalto, no? Ormai tutti i comuni sanno che se vogliono rifare le strade, devono sperare che passi il Giro d'Italia.